Complimenti veri all'Atalanta, alla Dea, alla società, a Gasperini e soprattutto ai giocatori. Sono spettacolari, grande gioco. Ma quando finirà? Quando finirà questa farsa? Neanche durante la Seconda Guerra Mondiale. Giocavano a porte chiuse. È una cosa orribile. Mi dispiace per l'Atalanta, ma penso che vanno avanti tanto a giocare al calcio. È una cosa orribile vedere di giocare così, senza pubblico, senza niente. Mancano tutte le emozioni. Mettono le voci dei tifosi anche nella PlayStation. Piccolo, è vero. Quindi, ragazzi, direi, 1940-1943, nessuno giocava a porte chiuse. È una cosa schifosa. Comunque, non lo so quanto tempo vanno avanti anche in Europa. Io penso dieci giorni e si chiude tutto anche in Europa. Ciao, ragazzi.